Lo spettacolo è annullato. Un'ora prima dell'inizio, l'ultima parola sullo show del controverso comico Gio de Neu en Balambala a Nantes è spettata al direttore della sicurezza pubblica francese dopo la pronuncia del Consiglio di Stato per difendere l'ordine pubblico da possibili contenuti antisemiti. Per i 5.000 spettatori che fino all'ultimo hanno atteso fuori dal teatro ne va della libertà di espressione. Ho la faccia d'antisemita, sembro un razzista. Siamo venuti qui per farci due risate e divertirci, siamo delusi da questa decisione, è una vergogna. Si va contro la libertà di espressione, sono contrarie alla censura, è scioccante. Il pubblico a gran voce ha chiesto le dimissioni del ministro dell'interno Manuel Valls che con una circolare ai prefetti aveva bloccato lo spettacolo per evitare tensioni sociali. Stasera ha vinto la Repubblica, sono stati rafforzati i valori del nostro paese e sono questi che ci riuniscono. Diodonné è stato più volte multato per incitazioni all'odio antisemita. Inizialmente il tribunale di Nantes aveva accolto il suo ricorso adducendo che il suo spettacolo, Lemur, non costituisse attacco alla dignità umana. Ma l'ingerenza del governo francese è ora in muro che potrebbe bloccare altre date del tour. Grazie a tutti.